ciao raga alla pedana risaldata di qua stuccata perché c'era solo piccoli forellini dato il fondo dappertutto ma proprio dappertutto queste sono le ciuccine qui ho dato l'antirombo si può vedere i pepignoli possono vedere anche il rigo qui dell'antirombo e lei pensi l'antirombo per chi non lo sa e per quando schizza sassolini sotto a meno non batte e nulla tutta pronta e ora niente domani si scarta poi si prende l'aerografo e si inizia a verniciare lui la vuole celeste polini io la volevo fare acqua marina quindi paga lui e si fa celeste polini ciao raga celeste polini chi si la vespina di christian chi si c'è di christian chi si c'è ma lo so vabbè parafango compravo nuovo perché questo è tutto marcio niente tutto qui allora vediamo se ci sarà qualcuno ci avrà da ridire anche qui perché nell'altro video qualcuno avuto a ridire mamme raga poi io voglio vedere anche i vostri canali a quelli c'ha da ridire a quelli c'hanno da ridire voglio vedere un iscritto zero iscritti nessun contenuti quindi vi divertite solo andare a rompere coglione a quegli altri ma fai una a meno no ma andate a trombare invece di rompe le palle un bacione ciao raga ciao ciao ciao